Offriva su internet appartamenti e case vacanze e destinati ad ignari turisti che intendevano trascorrere le ferie nella rinomata località balneare di San Vitolo Capo. All'oscuro di tutto, dopo aver pagato la caparra, partivano fiduciosi, convinti di essersi assicurati un confortevole alloggio per le tanto sospirate vacanze. Ma una volta arrivati sul posto, una amara sorpresa ad attenderli. I malcapitati si rendevano immediatamente conto di essere stati truffati e di aver preso in affitto delle abitazioni fantasma. Case da sogno inesistenti, inserite in annunci su un noto sito online su cui aspiranti vacanzieri, italiani e non, effettuano lunghe ricerche per trovare la sistemazione ideale dove poter passare l'atteso periodo di relax nella splendida zona di villeggiatura. L'ideatore della truffa è un giovane di Palermo. Smascherato dai militari della locale stazione dei Carabinieri è stato denunciato. I militari dell'arma hanno sviluppato una delicata indagine attorno all'attività del palermitano e dopo aver raccolto numerose denunce dalle vittime, sono riusciti a risalire alla fonte dell'inganno telematico. Da quanto accertato, gli affari avrebbero fruttato circa 9.000 euro, il totale delle caparre versate sul conto corrente del truffatore seriale. A fine ottobre era emersa una storia analoga in merito ad una fantomatica villa incontrada fra ginesi a Castellammare del Golfo. Un'intera famiglia di napoletani con annessi nonni, zii e nipoti era arrivata nella cittadina marinara intorno alla metà di agosto dopo aver pagato la caparra per l'affitto della casa, pensando anche di aver fatto un buon affare, ma tutto si era rivelato al momento dell'arrivo una fregatura. Alla famiglia di napoletani non è rimasto altro che rivolgersi ai carabinieri. Ad essere stato denunciato in quel caso un giovane di Capaci che, mediante un sito internet creato ad hoc, promuoveva l'affitto di case facendosi versare la caparra su una propria carta prepagata per poi scomparire nel nulla.